Attendere i denti scan Ho ancora una di queste Identità genetica confermata Ingresso autorizzato Salve, dottoressa Sobek Prego, puoi entrare Ancora non capisco Sobek non può essere mia madre È vissuta secoli fa Tutte queste ricerche Per non arrivare a nulla Riagisci così a quello che hai imparato? Sembri una ragazzina viziata Dovresti provare a parlarmi in questo modo Faccia a faccia Come desideri Davvero non ti rendi conto Di quanto siano monumentali le scoperte che hai appena fatto Mi aspettavo di più da te Quindi Hai una faccia Magari hai anche un nome? Di tutte le domande che potevi farmi È questa quella che scegli Ho passato anni a cercare Fra le rovine dei predecessori Per capire perché fossero scomparsi Per anni ho creduto che i robot di faro Avessero distrutto la loro civiltà Senza averne conferma E in un attimo Tu scopri più informazioni di quanto io abbia mai fatto E quello che ti interessa È il mio nome Silence Questo è il mio nome Ora Perché non provi con un'altra domanda? Qualcosa di meno futile? Va bene, Silence Hai reso l'idea Sono venuta qui per scoprire di più Su questa Elisabeth Sobek E l'ho fatto Ma Ancora non riesco a capire il mio legame con lei O perché l'eclissi vuole uccidermi O Chi è Ade? Nessuna risposta Ma Solo una domanda dopo l'altra Esatto Ecco perché dobbiamo allarcare il fronte della ricerca Solo allora capirai quanto sono davvero seri i tuoi problemi Di cosa stai parlando esattamente? Ha inseguito un enigma personale In uno stuolo di misteri molto più grandi Il filo conduttore è Elisabeth Sobek Che legame ho con lei? Non può essere mia madre se è vissuta secoli fa Non lo sappiamo però L'unico modo per scoprirlo è andare avanti e fare nuove scoperte Grazie a te abbiamo appena scoperto che i robot di faro minacciarono la vita sulla terra Ma non è successo La civiltà dei predecessori fu distrutta ma la vita La vita si salvò Ovviamente Ma Cosa ha fatto Elisabeth? Come fermò i robot prima che tutto fosse perduto? Cos'era il progetto Zero Dawn? È la giusta domanda Dimmi Sei pronta a cercare le risposte? Certo che sì Allora perché non ti muovi? Non così in fretta Mi devi delle spiegazioni Ti ho già detto abbastanza Se hai ancora domande fai alla svelta e smettila di farmi perdere tempo Chi sei Silence? E che intenzioni hai? Vuoi metterla sulla Personale? Sono un nomade solitario che ha lasciato la sua tribù molto tempo fa Esploro luoghi proibiti Ricerco conoscenza perduta Come avevo detto Come fai a essere così informato sull'eclissi? Si dà il caso che io conosca molte cose Se quello che vuoi sapere è se lavoro per l'eclissi o chiunque altro La risposta è no Sono assolutamente indipendente Ora se hai finito puoi andare Oh no Ho appena iniziato Ti sei fatto una corsa gratuita sul mio focus Bello comodo mentre io rischiavo tutto Mi basta togliermi quest'affare dalla testa E sarai cieco, sordo e stupido Quindi non lamentarti e rispondi alle mie domande Molto bene Procedi Hai usato il mio focus per spiarmi Com'è possibile? Ogni focus emette Un segnale Una voce Che solo altri focus sentono Io so mettere insieme quelle voci Farle parlare fra loro Farle comunicare Anche su lunghe distanze Dove hai imparato a farlo? Anni di studi ed esperimenti Il principio non è poi così diverso dall'override delle macchine Io lo eseguo sui focus E puoi anche spiare dai focus dell'eclissi? Di solito Sappi che l'override delle loro connessioni è Complesso È possibile che Elisabeth Sobeck sia ancora viva in qualche modo? È improbabile Ma Non impossibile Alcuni dati antichi che ho recuperato Menzionano tecniche di allungamento della vita Farmaci per lo più Una parola antica per medicina Ma cercavano ancora modi per congelare e scongelare le persone Congelare e scongelare le persone? La chiamavano criogenia Ma c'erano dei problemi Vista la perizia tecnologica di Elisabeth Non posso escludere che abbia trovato un modo per rendersi immortale Ma stiamo speculando Perdendo tempo Hai detto che sapevi da tempo che le macchine di faro Avevano distrutto la civiltà dei predecessori Almeno così sembrava Ma finora Ignoravo la portata del pericolo Che potessero trasformare la materia organica in carburante O che gli Horus potessero produrre più robot Un calderone con le zampe Ma i robot che abbiamo visto finora I corruttori e gli sterminatori Non fanno cose del genere Non ancora Per adesso abbiamo trovato solo esemplari danneggiati A piena potenza chissà cosa sono capaci di fare Da quanto ne so io L'eclissi esegue soltanto ordini È Ade che mi vuole morta Chi è? Non lo so L'eclissi lo descrive come un'ombra sepolta Una specie di demonio La cosa che mi ha parlato là fuori Che ha fatto esplodere quel focus Era Ade Non sembrava una persona o una macchina Più un fantasma Con una voce terribile La cosa certa È che ti vuole vedere morta Per il mio legame con Elisabeth Per forza Ade usa l'eclissi per risuscitare i robot di faro Ma Elisabeth aveva trovato un modo per fermarli secoli fa Si aveva creato armi speciali Magari Ade teme che io possa fare lo stesso In alcuni dati antichi recuperati Ci sono indizi sullo sviluppo di cosiddette superarmi Magari per distruggere i robot I predecessori hanno dovuto autodistruggersi Elisabeth ha detto a Ted Faro che stava andando in un posto chiamato Comando US Robot Per informarli su Zero Dawn Quel posto esiste ancora Come rovina Gli Oseram lo chiamano il Tumulo Tumulo? Simpatico Si trova sulle montagne orientali Sotto le spire aggrovigliate di un demone di metallo O meglio Horus Bio R7 Come li chiamiamo ora Ti contatterò quando sarai lì Non vedo l'ora L'eclissi Armeggiano con quel demone di metallo Non penseranno di risvegliarlo, vero? Attenti! Attenti! Sole ove Libera da quel posto Ora devo trovare la base di lancio orbitale di cui parlavano Ho consultato i miei dati e trovato la base È la buona notizia E la brutta? È proprio sotto alla cittadella Il palazzo di tramonto La capitale dei Cargia delle Ombre Non proprio il massimo Il palazzo Brulica di agenti dell'eclissi In posizione di autorità E tutti indossano un focus Appena ti vedranno lo farà anche Ade Ordinerà di ucciderti E stavolta avrai contro l'intero esercito dei Cargia delle Ombre Allora disattiva i loro focus L'hai già fatto prima Non è semplice Troppi focus nello stesso posto Comunicano fra loro e fanno rapporto ad Ade Un'intera rete di focus Una rete? Che intendi? Immagina un'enorme ragnatela invisibile Estesa per tutta la valle Che connette tutti i focus insieme Permettendogli di comunicare a grandi distanze istantaneamente Capito Beh, c'è un modo per distruggere questa ragnatela? Distruggere la rete Audace, sì C'è un modo Un punto debole nella rete Indicamelo Non è così semplice Mi servirà del tempo per elaborare i dettagli Quindi che cosa dovrei fare? Aspettare Vi sicuro hai altre faccende da sbrigare Vi faccio vivo io Aspetta Silence Altre faccende da sbrigare Beh Varlessona hanno ancora bisogno di me con le Clissi Andrò appena del demone Morti e feriti sono sistemati Ci sono altri audaci o guaritori? Solo io Sei ferito? Che è successo? Di tutto La fuori è il caos Il capoguerra mi ha mandato per fare rapporto Così non le sono utile Quindi Eri qui quando lo squadrone è stato aggredito Esatto Non immaginavo giorno più cupo dopo la prova Ma mi sbagliavo Il capoguerra ha perso tempo con le retroguardie Assetati di vendetta I primi audaci sono caduti in trappola Ne sono morti subito a decine Se Sona non fosse arrivata a guidarci Saremmo tutti morti Varl ha detto che il capoguerra ha rintracciato gli assassini Li ha trovati? Abbiamo seguito le tracce Ma continuavano a mandarci addosso macchine corrotte Le mie ferite mi hanno rallentato Così il capoguerra mi ha mandato indietro per riferire che non si arrende Varl mi ha mandato a cercare Sona Hai idea di dove sia ora? Posso dirti dove ci siamo divisi Alla torre di metallo a sud est delle rovine di sete del demone Guarda l'altura dietro Quella col macigno Io andrò all'abbraccio e dirò quello che so Varl e agli altri Che la madre ti dia forza Ti servirà da sola Io andrò all'abbraccio e dirò il Per fortuna sono passata di qui. Un battito in più e quel secodonte ti avrebbe fatto a pezzi. Mezzo battito in più e l'avrei ucciso da sola. Ah, sei tu il capoguerra Sona? Varle voleva ti cercarsi. Ha difeso la porta? Con coraggio, sì. L'ho visto uccidere una macchina corrotta. Ma è preoccupato per te. Alla tribù serve forza, non affetto. Ho rintracciato alcuni degli assassini della prova. Io voglio vendetta. E tu? Non ne hai idea. Mostramelo. Dammi la tua forza. Seguimi. Ore fa, alcuni audaci si sono nascosti negli alberi. Attaccheranno al mio segnale. Il nemico e le macchine demoniache sono numerose. Ma noi abbiamo la furia dalla nostra parte. Possiamo contare su altro. Spiegati. La vampa. La usiamo per il fuoco. Loro per l'esplosione. È così che hanno scavato. Quindi le diamo fuoco e poi... Boom. Allora iniziamo. Ehi, aspetta. Non c'è fretta. Dammi un po' di tempo per farmi avvicinare. Se dovessi allarmarli... Attacca. Va bene. Vediamo cosa senti. Non erano solo questi. Ne ho contati di più al momento del massacro. Se devo... Inseguirò le loro luride ombre fino a punta della laccia. Lo farò. Sei ferita. Perdi sangue. La mia salute non ti riguarda. Non discuto la tua determinazione. Ma devi riposare. Ha ragione, capoguerra. Fate rimarginare le ferite. Varl? Perché sei venuto qui? Ti avevo ordinato di difendere la porta con la vita. E così ho fatto. Finché il vostro messaggero non ha portato notizie dell'incontro con Aloy. E la vostra posizione. La porta è ben protetta. Il mio posto è qui. Con voi. Con la vendetta. Non spetta anche a me. Forse dovrei dare un'occhiata. E vedere se scopro dove sono gli assassini. Fa come vuoi. Tutti lo fanno. Madre. Ho scoperto qualcosa. Gli altri assassini sono accampati nel... Cerchio di metallo. Sai cosa significa? Maledetti. Il cerchio di metallo è nelle rovine di pena del demone. Quella terra è tabù. Tornerò dalle matriarche. Le implorerò per un'eccezione. Non c'è tempo per farlo. Il sangue versato chiama altro sangue. Se la terra è maledetta, la nostra vendetta la consacrerà. È blasfemia. Vi prego, capoguerra. Infrangete il tabù. Pena del demone. È un posto maledetto. Ma forse... La benedizione dei cercatori di Aloy ci proteggerà. Manderò gli esploratori. Noi ci riuniremo sulla rupe degli Echi Rossi. e sferreremo un attacco da lì. Sembra un buon piano. Ci vediamo là. Pena del demone. È molto inquietante, eh? Non ti sei mai chiesto come potesse essere... ai tempi dei predecessori? Non sei come gli altri Nora. Me lo dicono sempre. Capoguerra. Gli esploratori hanno trovato i nemici nelle rovine. A difesa dell'accesso al cerchio. Allora dovremo distruggere questi campi. Così non danno l'allarme. Va bene. Pensiamo ai campi. E i nostri nemici nel cerchio di metallo non ci vedranno. Mi occupo degli allarmi. Invieremo audaci a ogni campo. Pronti in agguato. Tu comincia. E loro finiranno. I campi non sono più un problema. Ora al cerchio di metallo. Le sue alte mura difendono il nemico. Dovremmo arrampicarci in alto, col rischio di essere attaccati. Ho un'altra idea. La loro base ha punti deboli. Lascia che vada io e li sfrutterò. Se ci riuscirò, farò un buco nelle mura grande abbastanza da far entrare l'intero squadrone. Può funzionare. Sempre che io possa venire. Un capoguerra dovrebbe essere lieto che due frecce fremano per essere scoccate. Sì, Varl. Vai con Aloy come suo compagno, ma... Stai attento. Certo, capoguerra. Lo farò. Andate. Aspettiamo il segnale. Afferra la mano. Laggiù. Vedi quel rifugio coperto? Li hai visti, quei corruntori? Concentrati, Varl. Quel rifugio è pieno di vampa. Ce n'è un'intera scorta. Se la innesco, l'esplosione distruggerà quei corruttori e farà crollare le mura. Una bella breccia per la carica dei Nora. Da qui siamo lontani. Dobbiamo avvicinarci. Io mi avvicino. Tu torna indietro. Di a zona del piano e portali da quella parte del cerchio. D'accordo. Quando crulleranno le mura, le rupperò per primo dalla breccia. Ora devo soltanto fare in modo che accada. Madre, osserva la nostra vittoria. Questo debito è stato ripagato. Ricordate questo giorno, audaci Nora. Dalle labbra, alle orecchie della dea. Sì, ricordatelo. Prepariamoci a lasciare questo posto. Lasciate lance e frecce a riposare nei corpi dei caduti. Sono maledetti, come queste rovine. Tu non tornerai indietro con noi, vero? No, non penso. Sono contenta che tu abbia avuto quello che cercavi, Varla. Ma io no. Non ancora. Ehi, lo so che devi andare. Sei una cercatrice, in fondo. Ma semmai dovessi ripassare da queste parti... Che cosa? Sarà bello rivederti, tutto qui. Credo che ci raggrupperemo a Corona della Madre. Ti incontrerò lì? Forse sì. Ci vediamo. Sei una guerriera capace, Aloy. Rost ti ha insegnato bene. Tu lo conoscevi? Molto tempo fa. È abbastanza da sapere che fosse un bravo uomo. E perché l'hanno esiliato? Quali crimini ha commesso? Vorrei potertelo dire. Ma solo le alte matriarche conoscono la storia. Sì, lo so. Beh, ora dovrei andare. Grazie, Aloy. Che la Madre benedica i tuoi viaggi, ovunque ti porteranno. Carino da parte tua farti vedere. Il nostro obiettivo è distruggere la rete dei Focus. Già, dimmi la parte che non so. Come? Dovrai infiltrarti nella base principale dell'eclissi. Cosa? Esatto. Per tua fortuna ti ho portato fino alla strada alternativa. Attraverso quella spaccatura. Raggiunta la base, vedrai l'obiettivo. Un collo lungo, un collo lungo fatiscente che è stato ampiamente modificato. Scala il collo lungo. Scala il collo lungo. Impiantato nel suo disco troverai una specie di modulo. distruggilo e la rete dei Focus sarà fuori uso. Quindi facevi parte dell'eclissi? Io non ho mai fatto parte di niente. Servo solo i miei interessi. Sempre. Ma... È vero che ho... Aiutato l'eclissi prima che percepissi la minaccia. È stato un errore e faccio il possibile per rimediare. Che genere di aiuto hai dato? Raggiungi la spaccatura, Aloy. Hai cose più importanti a cui pensare che fare domande. Stai ricevendo? Laggiù vedo le gambe del collo lungo, ma... Niente collo lungo. Merda. Hanno rimosso il trasmettitore. Vai nel crepaccio a sinistra. Dovrebbe essere lì. Alla faccia delle informazioni riservate. Verso le esplosioni. Ottimo. Hai esattamente un solo tentativo, Aloy. Quindi risparmiati il sarcasmo e non sprecarlo. Vedi quel ponte oltre il crepaccio? Sì. Memorizza la posizione. Puoi calarti da un punto sul fianco. Sarà la tua via di fuga. E gli uomini dell'eclissi? Evitali o uccidiliate la scelta. Le esplosioni copriranno i rumori. Trova il collo lungo e distruggi il modulo sulla cima. Ci siamo. Vedo il modulo. Bene. Ora veloce. Questo... Questo è Ave. Aloy, non è il momento. È... Un demone di metallo. Apri la custodia del modulo. Ora! Aloy, fa come ti dico o sarà la fine. L'entità è venuta qui. L'entità ha sbagliato. L'entità non può distruggermi. Non può raggiungermi. Forse io no. Ma questa sì! Distruggere l'entità! L'entità non può distruggire l'entità. La camera è sbagliata. Questa di E' stata dura, ma sei viva. Sapevi che Ade era lì e mi hai mandato lo stesso. Ho messo a rischio la tua vita, sì, ma era l'unico modo. Con la rete dei focus disattivata raggiungeremo l'obiettivo. L'accesso ai segreti di Zero Dawn. Ho smesso di confidarti i miei segreti. Bene. Significa che stai maturando. La fiducia è per gli stolti. Muten si sgretola come la sabbia. Una base debole per qualsiasi alleanza. Ma avere uno scopo comune. Getta fondamenta solide su cui costruire insieme una nuova scienza della comprensione. Ci servono risposte a noi. Grazie a te siamo sul punto di ottenerle. Va a tramonto. Parleremo lì. Ma brutto. Maledetto. Per la gloria del sole rivelato. Ammirate il radiante Itamen, l'unico vero re sole. La luce nell'ombra, il cui volere è luce e la cui luce è legge. Ordino a Baabas illucente di parlare a mio nome. Per volere del radiante Itamen, il bagliore del sole si abbatte senza pietà sul traditore Utid. Al cacciatore che porterà la sua testa andrà alla taglia di 500 frammenti. Più prigionieri che reali. Non ti pare? Vai i capelli. Tu e io dobbiamo parlare, piccola cacciatrice. Ho la tenda verde di fianco a Umbroso. Ti aspetterò. Ho da fare. Sappiamo entrambe che non sei un sigario. Utid è innocente. Allora passa da me, finché possiamo ancora salvarlo. Bene. L'accesso di cui ti parlavo è dietro di te. Spero tu stia scherzando. Per niente. E non dovrai preoccuparti dei gheppi. Sono troppo impegnati a darsi aria per badare a te. Adesso scendo. Ho passato la mia vita a cercare di scoprire i segreti di questo mondo. Da dove arrivano le macchine. Come hanno fatto i predecessori a compiere meraviglie simili per poi annientarsi. Una vita di fallimenti. Anno dopo anno, decennio dopo decennio. Solo muri indistruttibili e porte inaccessibili. Salve. Finché una Nora non ha lasciato il selvaggio Est. E... Ecco fatto. Per lei... I segreti della Terra sono stati messi a nudo. Sospetto che avrai molta più fortuna di me con questa porta. Attendere i denti scammi. Identità genetica confermata. Ingresso autorizzato. Errori. 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 Sto scherzando? Io non sto ridendo. Zitto tu. Ci deve essere un modo. Ehi! Elisabeth Sobek qui! Richiedo l'accesso! Accesso richiesto. Funzioni di comando centrale disponibili. Si intende procedere? Certo! Apri questa maledetta porta! Analisi. Accesso primario inutilizzabile per errori meccanici. Ventilazione di emergenza in grado di aggirare il blocco. Si intende procedere? Sì. Ventilazione di emergenza autorizzata. No! Ti ho sottovalutato. A questo punto... Immagino non si possa avere tutto. Questo attirerà l'attenzione. Non resteremo solo in questo posto per molto. Noi! L'ultima volta ero io l'unica a rischiare la vita, qua giù. Sì, va bene. Ora ti daresti una mossa. C'è molto da imparare e meno tempo del previsto. Benvenuto al progetto Zero Dawn. Sono il generale Harris, presidente dei capi di Stato Maggiore degli Stati Uniti d'America. L'avrai sentito dire. Zero Dawn è un programma di superarmi top secret. Il miracolo tecnologico che ci salverà dalla piaga di faro. Sempre che l'operazione Vittoria Eterna rallenti i robot, ho diffuso io le indiscrezioni. Per questo mi hai sentito parlare. E sono tutte menzogne. Zero Dawn non è un programma di superarmi top secret. E non potrà salvarci. Nulla può farlo. Ecco perché. Quando hanno scoperto l'anomalia, era troppo tardi. Nulla ha potuto fermare la piaga di faro. Nulla può farlo. I suoi robot continueranno a ripicarsi e a divorare la biosfera. La vita sulla Terra verrà spazzata via. Ed il pianeta non resterà che una sfera sterile. L'estinzione è ineluttabile. Non importa quanti ne uccidiamo. I robot aumenteranno. Aumenteranno esponenzialmente. Con i codici di disattivazione potremmo spegnerli tutti. L'intero sciame. Ma i loro protocolli criptografici usano forme d'onda polifasiche intrecciate. E ci vorrebbe un secolo per decifrare un set di codici. Al massimo, abbiamo 16 mesi. Troppo poco per poter sopravvivere. Distruggere la biosfera è un'apocalisse da cui non ti difendi stando in un bunker o in una stazione spaziale. Non ci sarà più una Terra da riscattare. Solo una roccia morta e tossica con diversi milioni di robot di faro e in letardo. E in attesa di cibo. E questa l'orrenda verità dietro all'operazione Vittoria Eterna. Le mie bugie. Bugie pensate per spingere milioni di innocenti a sacrificarsi in battaglia. Perché? Non ha ragione. Guadagnare tempo per te è il lavoro che svolgerai qui. Lo Zero Day, il giorno in cui la Terra morirà, sta arrivando. È inevitabile. La speranza di Zero Dawn è che dopo segua qualcosa di nuovo. Ma lascerò che sia Elizabeth Sobeck a gettare quel raggio di luce nell'oscurità. Passo e chiudo. Elisabeth Sobeck. Hai appreso la brutta notizia. Ed è tutto vero. La piaga di faro sta divorando la biosfera. La vita è destinata a scomparire. Ma deve essere per forza la fine. E se dessimo all'esistenza un futuro. Se riuscissimo a creare un seme da cui, su un pianeta morto, potesse nascere una nuova vita. È questo qui lo scopo del progetto Zero Dawn. Creare un sistema di terraformazione intelligente, automatizzato. E ridare origine alla vita dal nulla. Cosa serve a questo sistema? Innanzitutto, una vera IA, capace di prendere trilioni di decisioni necessarie per ricostruire la biosfera. Un guardiano immortale, creato per riportare la vita sulla Terra. Si chiama Gaia. Una madre natura artificiale. Ma questo è solo il fulcro del sistema. Dovrà essere circondata e potenziata da una serie completa di funzioni subordinate. Considerale un'estensione della mente di Gaia. Ciascuna con una funzione ben precisa. Non si tratta di vere intelligenze artificiali. Ma ciò nonostante, queste costituiranno una vera sfida di ingegneria. La più grande che il genere umano abbia mai affrontato prima d'ora. Un hardware che conserva e sviluppa i miliardi di semi ed embrioni da cui la vita avrà un nuovo inizio. La costruzione di strutture sotterranee per custodirli. Ed è soltanto l'inizio. Non dobbiamo costruire l'intero sistema. Il bello di un sistema di terraformazione automatizzato è che è in grado di crearsi da solo. Nei prossimi giorni scoprirai come queste funzioni e le parti su cui lavorerai si incastreranno. La corsa contro il tempo per avviare le procedure di raccolta, scrivere il software, creare tecnologie e strutture. Come lo sigilleremo prima che l'inevitabile si scateni. Ma cosa più importante, scoprirai che questa non è la fine. Che Gaia genererà i codici di attivazione menzionati dal generale Erres. E imposterà le antenne per diffonderli, disattivando i robot di faro per sempre. Che Gaia non solo creerà, ma ideerà a qualsiasi robot di cui ha bisogno per svolgere il suo lavoro nei secoli. Dalla decontaminazione dell'atmosfera e dei suoi mari avvelenati. Al rinverdimento della Terra con banchi di semi criopreservati. Al ripopolamento della fauna terrestre. E poi, quando tutto sarà pronto, che una nuova generazione di umani, generata nei centri culla in tutto il mondo, condividerà Apollo. Il vasto archivio di conoscenza umane e conquiste culturali da cui impareranno sul nostro mondo. Ma ben più importante, come non ripetere i nostri errori. Non è un sogno impossibile. Possiamo raggiungerlo se ci daremo da fare e non ci fermeremo di fronte a nulla. La fine della vita è inevitabile. Ma se aiuterei me e Gaia, possiamo darle un futuro. Uniamoci e rendiamo questo futuro una realtà. L'eclissi. Sono qui. Evita il contatto. Le linee sembrano a posto! Gaia. È di sopra. Primo piano. Ci arrivi. Evitare il contatto, come no. E il file principale del registro alfa. Intatto? Sì. Non vedo alcun danno. Allora cosa aspetti? Copia il file. Con questo posso ripristinare il registro alla porta nella madre. Aprirla ed entrare. E svelare i suoi segreti. Dove sono nata. Forse... Forse chi mi ha dato alla luce... Chi? Sei davvero così sciocca? Non ci sarà nessun chi ad aspettarti. Sei stata messa al mondo da un cosa, non da un chi. Bastardo. No, io sono normale. Sei tu, Aloy. A essere nata da una macchina. Ma che genere di macchina e perché... Perché sei stata creata? Ecclissi. Ora esci di lì. La tua scoperta è troppo preziosa. Tu sei troppo preziosa. No, non c'è stato. Essenio. Non, e' Ancora viva. Bene. Ho in mente una morte più consona per te, bambina. Per tutta la vita, ho sempre avuto una sola certezza profetica. Di essere destinato alla gloria come grande campione del sole. Quando Giran è morto e quando Meridiana è caduta, non ho mai avuto dubbi. Finché non sei giunta tu. Quando ho saputo che eri viva, un dubbio si è radicato in me. Come il sole sorge e tramonta ogni giorno. Coloro che devo uccidere muoiono. Eppure ho fallito. Come? Perché? Per ogni scavo che attaccavi, ogni soldato leale che uccidevi, il mio tormento cresceva. Mentre dipuntavo la lama alla gola, non facevo che pensare. un colpo, un semplice movimento della lama e ti saresti dissanguata. La mia mano è pratica di massacri. Perché esitare? Perché fallere il mio destino? Vedi la cicatrice sulla tua guancia? Non hai fatto in tempo. Sì, mi ricordo. Niente male per essere un selvaggio. Si chiamava Rost ed era un uomo migliore di quanto tu potrai mai essere. L'uomo migliore è quello che non finisce con le interiora sparse per terra. No. Non è stato, Lory. Avrei potuto finirti prima che mi attaccasse. Ma non l'ho fatto. Questo fallimento mi ha stravolto la mente. Mi perseguita. È stato quando ti ho catturato lì in quel luogo che ho finalmente intravisto il disegno che il sole aveva tracciato nel corso degli eventi. Tu dovevi sopravvivere quel giorno sulla montagna. Dovevi interferire negli scavi e uccidere i miei uomini. Al contrario, era mio compito catturarti. Cui. Così che tu morissi come offerta sacrificale al sole. Esattamente come doveva essere. Predestinato e prestabilito. Destino, sì. Esegui solo degli ordini, non chissà quale disegno cosmico. Sei un burattino e Ade ti manovra a suo piacimento. Una pedina, mossa da forze più grandi di lei. Sarebbe divertente se non ci fossero così tante uccisioni. Ade è una macchina antica. Non il mito dell'ombra sepolta dei Karja. Non gli importa di meridiana. Vuole uccidere tutto e tutti. E tu sei solo uno schiavo devoto. Io non servo l'ombra sepolta, ma il sole all'ombra. Le due metà della natura in un'unica causa. Ombra al sole, buio alla luce. Davvero non ti rendi conto di quanto questo sia ridicolo? Sei passato da servire un re sole pazzo e omicida a una macchina pazza e omicida. Non fai altro che andare indietro. Ricorderò le tue parole quando vedrò bruciare il tuo corpo. O i tuoi resti. Ancora non cogli il punto. Così come ho sconfitto te. Ho vinto anche gli idubi. E dalla certezza della fede deriva una forza inarrestabile. Allora apri questa gabbia e metti alla prova la tua fede. Vedremo se andrà come credi tu. Il cerchio si è chiuso. Ogni elemento è al suo posto. Esattamente dove deve stare. La bestia errante ora in cambia servirà il suo vero scopo. Come animale sacrificale. Ah, a proposito di sacrificio. Quasi dimenticato. Quando hai distrutto la rete dell'eclissi ho trasmesso un messaggio a Est per radunare le forze e organizzare un'invasione della Terra Sacra. Ho ordinato di uccidere un'Inora. Speravo di trovarti lì ma alla fine avremmo potuto evitare la fatica. I Nora mi hanno esiliato alla nascita. Farai male solo a loro, non a me. Davvero? Allora non fa alcuna differenza. In ogni caso non potrei revocare l'ordine neanche se volessi. Grazie alla tua distruzione della rete la comunicazione a distanza è impossibile. Non hai condannato solo te stessa ma una tribù intera. Davvero non riesci a scorgere il giudizio rovente del solo in questi eventi? Il tuo focus è un dispositivo potente, non trovi? Eppure così frabile. hai visto? Stavolta non ho minimamente esitato la lama si è mossa da sola. fedeli cargia, gioiti, i nostri anni nell'ombra sono finiti. una nuova alba sorge all'orizzonte un nuovo giorno tra presto inizio. E quando sarà? Il falso re sole sarà morto e la sacra meridiana sarà di nuovo nostra! Per questo motivo io sono diventato uno strumento della profezia. I due volti della natura insieme per una sola causa ombra e sole luce e oscurità notte e giorni guardate! Restate seduti non vedete la prova della benedizione del sole coi vostri occhi se non fossero state benedette dal sole come mai potrebbero queste ombre vagare alla luce del giorno e unirsi alla nostra causa? Molti anni fa per consacrare quest'uone il radiante giant ordinò che gli infideli venissero schiacciati sotto gli cioccoli di un colosso! Il colosso è molto potente agli occhi del sole ma lo è ancora di più se è infuso del potere dell'uomo e ora lei che ha tramato contro di noi sarà la prima a morire! Che sia solo la prima di una lunga serie! che sia che sia che sia che sia ombre uccidete uccidetela uccidetela perché mandi loro affrontami tu se hai coraggio silenzio Travitore! Così sei qui. Sei venuto. Rischiando la vita. Certo che sì. Se fossi morta, la montagna non avrebbe mai rivelato i suoi segreti. Peccato che tu abbia solo perso tempo. Alice ha distrutto il mio focus. È il registro alpha al suo interno. Non è così. Ho monitorato il tuo focus per tutto il tempo, duplicando ogni singolo dato. Installare i dati su un nuovo focus è stato facile. Buon compleanno, Isaac. Papà vuole molto bene al suo ometto. Sei davvero bravo a renderti insopportabile, Silence. Ma immagino che mi serva. È ora di vedere dove sei nata. E forse scoprirai il perché. Sicuro. Conoscere la macchina che mi ha messo al mondo, non è questo che intendi? Ora vado. Aspetta. Sì? Alice ti ha riconosciuto nel cerchio del sole. Mi avevi detto di aver aiutato l'eclissi. Non di conoscere l'uomo che ha ucciso mio... Che mi ha quasi ucciso. Adesso lo sai. Quell'uomo è una seria minaccia. Dobbiamo fare il possibile per impedire a lui e Ade di vincere. Bene. Come hai fatto a rintracciarmi, visto che non indossavo un focus? Andiamo, Aloy. Non ci voleva un genio per capire che Alice ti avrebbe gettato nel cerchio del sole a mezzogiorno. Ho esaurito due corsieri per raggiungerti, ma ce l'ho fatta. Ora vai. Da quando esegui l'override sulle macchine? Fin da quando hai scoperto la tecnica. Ho distrutto un corruttore per ottenere le parti utili, naturalmente. Il tuo esempio mi ha indicato come farlo, certo. Un altro beneficio del monitorare le tue attività tramite il focus. A essere sincero, la logica alla base della tecnica non è molto diversa dai riti praticati dagli sciamani Banuk. Anche se... è più avanzata. Bene. Non c'è di che, immagino. Ora devo andare. Come se non bastasse, Alice ha ordinato all'Eclissi di attaccare la Terra Sacra dei Nora. La tribù è già indebolita. Non avranno alcuna possibilità. Dovresti venire con me. Assolutamente no. Ho dei preparativi di cui occuparmi. Che genere di... Perché te lo chiedo? Tanto non rispondi. Quando sarà il momento, ti farò sapere. Ti contatto dopo. Nel frattempo... Se tornassi nel territorio dei Cargia delle Ombre, ho per te un'armatura per nasconderti. Pensi sempre a tutto, vero? Devo farlo. Aloy. Quando stavi recuperando il registro Alfa nel bunker di Zero Dawn, sono stato troppo crudele. Per il tuo bene, spero che ci sia qualcuno ad attenderti nella montagna. Non qualcosa, ma qualcuno. Odaci! Al fianco di Aloy! Ora! Per Aloy! Per la Madre! Per la Madre! Hai salvato la tribù. Meglio di qualsiasi audace o capoguerra. Felice di vedere che stai bene, Varl. Tu... come ti senti? Dopo la prova... Tutte queste morti... Ora sono finite. Per ora, ma... Questa era solo una battaglia, Varl. Altri ci attendono. Bene. Finché combatterai al nostro fianco, immagino che ce la faremo. Quanti sono sopravvissuti all'attacco? Quasi tutte le matriarche e molte famiglie si è allodata la Dea. Ma gli audaci? Solo in pochi. E molti di loro sono feriti. Questa è la prima volta che il nemico ci pugnale in questo modo. Perfino i Karja, nei giorni rossi, non sono mai riusciti a entrare nell'abbraccio. Beh, il nostro nemico sarà anche entrato, ma non ne uscirà mai più. E questo grazie a noi. Parlami dell'attacco. Che è successo? Hanno colpito da Oriente. Le nostre sentinelle hanno visto gli assassini. Hanno detto che al loro fianco marciavano sterminatori, corruttori e altre macchine impazzite. Ci siamo schierati e li abbiamo accolti con le frecce. Ma questo... Non li ha fermati. Poi... Siamo tornati alle porte dell'abbraccio. Per resistere. Erano in troppi per noi. Alcuni si sono... Nascosti nella montagna. Hai delle ferite gravi? I lividi passano. Le ossa guariscono. Non voglio una canzone di caccia. Varla, stai bene? Il corpo è ferito. Ma nulla che possa impedirmi di combattere. Devo entrare nella montagna. Le matriarche saranno felici di vederti. Sicuro. Ma non sono venuta qui per loro. Allora... Per cosa? Lo vedrai. Finalmente sei tornata. Non solo è tornata, ma ha affrontato molti nemici per raggiungerci. Là fuori ha abbattuto un divoratuono corrotto. Ha fermato l'assedio. Come ci è riuscita? Grazie al volere della madre. Sei tornata per conferire con la dea, Aloy? Sì, immagino che sia così. Credo che funzionerà stavolta. Sorelle, non possiamo permetterlo. Per causa sua, la nostra tribù rischia l'estinzione. E se volesse risvegliare suo padre, il demone? Vuole completare la nostra distruzione. Dobbiamo fermarla. L'Ansra, è finita. È ora di farsi da parte. Non voglio farti male. Se c'è una cosa che ho imparato fin dalla prova, è che al mondo esistono mali peggiori di te. Ah, finalmente. Attendere i dentiscani. Errore. Registro alfa corrotto. Correzione. Registro alfa ripristinato. Identità genetica confermata. Ingresso autorizzato. Salve, dottoressa Sole. E' autorizzato a procedere. Elisabetta. Questo messaggio ha lo scopo di informarti su un'anomalia imprevista e catastrofica. Tre microsecondi fa, il centro Gaia Prime ha ricevuto una trasmissione di dati di origine ignota. L'effetto è stato la trasformazione delle mie funzioni subordinate in entità coscienti e fuori controllo, di natura altamente caotica. Così risvegliata, la funzione ADE assumerà il controllo del sistema di terraformazione e invertirà le operazioni estinguendo la vita sulla Terra entro 53,8 giorni. Per ovvi ragioni, non posso permettere che accada. Pertanto, prima che ADE assuma il controllo, ordino il sovraccarico del reattore di Gaia Prime. L'esplosione risultante distruggerà ADE. Sfortunatamente, distruggerà anche me. Anche se questa misura disperata scongiurerà la crisi immediata, il destino della vita sulla Terra resterà comunque in pericolo. Senza un'intelligenza preposta al controllo del sistema di terraformazione, le operazioni continueranno per un periodo, ma in modo esponenzialmente caotico, fino a giungere al guasto totale. Parla per caso... dello... squilibrio. Tu sei la mia soluzione. Ho ordinato a questo centro culla di usare materiale genetico crioconservato per generare una reistanziazione di Elisabeth Sovec, che mi ha creato. Nonostante le direttive di alto livello mi proibiscano di comunicare con le popolazioni tribali fuori dalla struttura, tutti i dati disponibili indicano che ti accudiranno fino alla maturità fisica. Quando la tua impronta genetica ti permetterà di riaccedere a questo centro, ottenere uno dei focus conservati qui sotto, e questo messaggio. La tua impronta genetica ti consentirà di entrare in altre strutture e col tempo di apprendere le loro tecnologie per ricostruire il nucleo del sistema e riavviare Gaia. Un secondo Elisabeth. È accaduto un fatto davvero spiacevole e imprevisto. In risposta al mio atto di autodistruzione, Ade ha lanciato un virus per poter dissolvere le catene che lo trattengono. Che li tengono tutti. Prigionieri. Lui. Loro stanno scappando. Ma dove? Il virus sta danneggiando i dati in tutto il sistema. E se... Oh! Il registro alfa al centro culla è uno dei file che sono stati danneggiati. Ma se è così allora, la porta non si aprirà mai per te. Non vedrai mai questo messaggio. Allora ho fallito. E la vita finirà. No. No, Elisabeth, ti conosco troppo bene. In qualche modo so che ce la farai. Con te qualsiasi cosa è possibile. Vai alle rovine di Gaia Prime. Trova la sala di controllo e troverai l'override principale. Solo così avrai il potere di eliminare Ade se scoprirai come utilizzarlo. Non riparare il nucleo di sistema finché Ade non sarà eliminato. Ade deve essere distrutto. È tutto. Vorrei solo poter sentire ancora la tua voce. Così? Sei più straordinaria di quanto pensassi. Non ho mai avuto una madre. Che stai dicendo? Ne hai avute due, una donna e una macchina. Non sono una persona. Ma uno strumento. Realizzato da una macchina. Nata dalla distruzione. E dal fuoco. Per spegnere le fiamme e guarire il mondo. È una vera tragedia apprendere di avere una tale importanza. Pare che tu abbia un destino da compiere. Quindi quando avrai finito di piangerti addosso, raggiungi la vita amara. Ti aspetterò la sua alle rovine di Gaia Prime. Per spegnere le fiamme e guarire le fiamme e guarire le fiamme. L'ha fatto. Cosa ti ha detto? Devo spezzare una maledizione. Uccidere un demone di metallo. Come, Aloy? Come? Non lo so ancora. Ma mi ha detto dove posso scoprirlo. E tu lo farai? Beh, era... Suo volere. Mi ha creato per questo. Sì. Certo, lo farò. O ci proverò perlomeno. Sia l'ode ad Aloy, prescelta dei Nora. Sia l'ode ad Aloy, prescelta dei Nora. Alzati. Sia l'ode ad Aloy, prescelta dei Nora. Ora... Prima mi emarginate e ora questo. Non dovete venerarmi. Non sono la prescelta. Io non sono vostra. C'è un mondo intero oltre i vostri confini. Ci sono altre tribù di gente buona quanto voi. E sono tutte... in pericolo. È un mondo per cui combattere. Non solo qui. Ovunque. Come ti aiutiamo? Se potete combattere e volete farlo, andate a Meridiana e aspettatemi là. Così Aloy dice e così sarà fatto. Nora! Fate l'argo. Fate l'argo. Che possa plasmare una strada per tutti noi. Sia l'argo. Sia. 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 Il sacrificio di Gaia? Ha fatto questo? Ha distrutto l'interno della montagna come un uovo? Sì, sì. Presto ora. Ti ho preparato la strada da seguire. Così tu sei già stato qui? Più o meno. Lo vedrai. Per anni ho tentato di aprire questa porta. L'ho colpita. Bruciata, fatta esplodere. Ma sappiamo entrambi che tu riuscirai a entrare. Lo dici come se dovessi scusarmi. Niente affatto. Non ho mai pensato che per entrare servisse la forza, ma solo una chiave. Una chiave in forma umana. La mancanza di immaginazione è stata mia, non tua. Sembra che tu abbia passato molto tempo qui. Diciannove anni fa. Una grossa esplosione distrusse questa montagna. Gaia morì. Tu nascesti. Il fragore si sentì fino alla conquista. La cenere oscuro è il cielo. E che frenesia ameridiana per interpretare questo segno. Il cratere bruciò per settimane quando si spense. Fui tra i primi a scoprire cosa c'era dentro. Col tempo, le macchine si unirono per proteggerlo. Utile. Presto nessuno osò più avvicinarsi. Eccetto me. Nel suo messaggio Gaia disse che potevamo ripristinarla. Ma dopo quel danno, com'era possibile? Lei disse che bisognava ripararla solamente dopo aver distrutto Ade. Concordo. Se ricostruissimo il sistema di terraformazione, Ade potrebbe usarlo come arma. A causa del sacrificio di Gaia è stato costretto a cercare metodi meno... convenienti. Ma... Credi che sia davvero possibile ripristinare Gaia? Sai di che cosa sono capaci i calderoni? Come fabbricano la tecnologia necessaria per creare una macchina? Allo stesso modo, dovrebbe essere possibile replicare la tecnologia necessaria per riparare Gaia. Ma ci vorrebbero anni. E per noi il tempo è ormai agli sgoccioli. Pensavo che potessi essere qui questa volta. Ma veramente qui. Perché? La mia presenza non è necessaria. Non ti servo io per attraversare quella porta. Sei tu quella nata per farlo, non io. Adesso... è meglio che vada. Sì. Quando troverai l'override principale, avrai il potere per sconfiggere Ade. Tutto dipende da te. La stanza di Elizabeth. Lo so. Non ha nemmeno avuto il tempo di sistemarsi. Questi sono i suoi diari. I diari di Elizabeth. E sono tutti distrutti. Esaminali. Se n'è andata. Per sempre. Sapevi che non poteva essere viva Aloy. E i suoi risultati... sono stati eccezionali. Mentre la sua gente vacillava, è stata lei ad assumersi la responsabilità. Solo lei poteva. Perché era la migliore? Non è quello che intendevo. Ma è così. Non dovresti temere di ammetterlo. Perché non smetti un attimo di fare il cinico e non provi a sentire qualcosa? Si è sacrificata per i suoi amici, per il futuro, per la vita sulla Terra. Davvero non ti fa pensare a nulla. Alla sua generosità. Cerchi di infondere la sua scelta con qualcosa di magico. è stata una scelta razionale, non basata sui sentimenti. No, ti sbagli. Ricorda, sapeva che Gaia non doveva solo pensare. Lei le insegnò i sentimenti. L'attenzione, il sacrificio, la fiducia nella vita per combattere la disperazione. Se non fosse per il sentimentalismo, la vita sarebbe finita. Tu e io non saremmo mai esistiti. È un'argomentazione valida. Mi spiace per la tua. Perdita. Disse di voler andare a casa. Forse... Cosa? Niente. È ora di andare. Tutti. Li ha uccisi tutti. Allora è per questo... È per questo che siamo prigionieri dell'ignoranza. Per un futuro innocente. Uomini senza colpe. Non ha mai visto i massacri dei giorni rossi. Tutti i risultati di quella gente. La conoscenza che i predecessori potevano offrire. Evaporati. Ridotti in cenere. Dispersi nel nulla. Come gli stessi Alpha. No. Non nel nulla. Quando la porta si è aperta e le loro ceneri si sono disperse, loro sono finiti nel mondo che hanno creato. Il mondo in cui viviamo. È come se fosse un monumento dedicato alla loro morte. Un monumento di oblio. Non oblio, Syltz. Speranza. L'override principale. È così piccolo. Ora dovrai solo usarlo per uccidere Ade. Ma... sei qui? Per un attimo. Cosa? Il nostro viaggio insieme è giunto alla fine. Ma prima che vada... Credo di doverti spiegare tutto il resto della storia. Continua. Tempo fa ho ammesso di aver avuto... Un ruolo nell'eclissi. Ma non ti ho mai parlato a fondo delle mie colpe. La verità è... Che c'ero fin dall'inizio. Ho trovato Ade, Aloy. Sepolto su quella montagna. Intrappolato in un titano. E l'ho servito. Cosa? Mi ha promesso conoscenza. E me l'ha data. Una conoscenza... Inimmaginabile. E in cambio? L'ho aiutato con l'eclissi. A costruire un culto. Un esercito personale. Perché me lo stai dicendo ora? Perché il tuo successo dipende anche da questo. Quando ho trovato Ade, per prima cosa ha voluto sapere dell'aguglia. Non di Meridiana. L'aguglia. E per quale motivo? L'aguglia è stata creata da Gaia. Quale parte di Gaia? Minerva. È... Un modulo di decretazione. Gaia ha costruito delle guglie per trasmettere i codici che hanno disattivato i robot di faro e spento i sistemi di conversione di biomassa. Ade vuole inviare una nuova trasmissione. Per svegliare le macchine. Così che possano divorare di nuovo il mondo. Sì. In base a quanto abbiamo appreso, è anche la mia conclusione. Così l'eclissi. I robot che hanno risuscitato. Sono solo un mezzo per un fine. Un esercito per prendere l'aguglia. Sì. Così Ade potrà nuovamente sterminare la vita. A meno che tu non lo fermi. Adesso devi dirmi tutto quanto. Ade, l'eclissi. Tutto. È una lunga storia, Aloy. Allora inizia. Tutto è cominciato da un focus. Recuperato in una rovina antica. Proprio come te molti anni fa. Nel mio caso, il focus era danneggiato. Aveva un ultimo guizzo di vita. L'ho studiato per settimane, cercando di ripararlo. E alla fine... Ce l'ho fatta. Una nuova dimensione della percezione si è rivelata proprio davanti ai miei occhi. È così che l'ho scoperto. Un segnale debole. Là fuori, qualcosa era alla ricerca. Proprio come me. Due spiriti affini. Ho seguito il segnale fino alla fonte. Un titano distrutto, sepolto nella giungla della Gemma. Credevi che fosse un titano? Una macchina da guerra? Non sapevo cosa pensare. Avevo già visto rottami simili. Al tumulo, per esempio. Ma questi erano diversi. Questi non erano morti. Non parlava quando l'ho trovato. Ma poi sono riuscito a ripararlo. Così ha iniziato a scambiare conoscenza. Voleva sapere tutto sul nostro mondo. Sulle tribù e sulle macchine. Ma la guglia era la sua preoccupazione principale. Che cosa voleva sapere sulla guglia? La posizione precisa. La geografia circostante. Chi controllava l'area. Nel mentre, Ade mi rivelava le complessità della tecnologia antica. Mi ha chiesto di recuperare altri focus. Dopopoco ne avevo una ventina funzionanti. Abbastanza per un piccolo esercito? Almeno per i comandanti. Non mi importava. Stavo imparando davvero molto. Fisica, calcoli. Non puoi neanche immaginare. E i Karja delle ombre? Come sono stati coinvolti? La rivolta dei Karja è stata un'ottima coincidenza. L'occasione perfetta. L'occasione? È così che la consideravi? Sì. Nella notte metà tribù era in esilio. Desiderosa di riprendersi Meridiana. La religiosità li rendeva manipolabili. Dovevo soltanto presentare Ade come l'ombra sepolta della loro mitologia. Quindi, sì, era una bella occasione. Chiesi all'alto sacerdote Bahavas di incontrare Ade. A Elis era presente. Così l'eclissi ha preso vita. Qualunque cosa per la Sacra Meridiana. A Ade però non importa di Meridiana. E nemmeno di te. Viviamo in un mondo di città cadute e tribù scomparse. Cos'era qualcuna in più? Inoltre, ero impegnato a installare la rete dei focus del culto dietro indicazione di Ade. Una sfida tecnica intrigante. Specialmente con le modifiche che ho incluso di mia progettazione. La capacità di potermi spiare? Sì. Forse sono stato un pazzo a servire Ade, ma mai abbastanza pazzo da fidarmi di lui. Ho installato quella che gli antichi chiamavano porta di servizio nella rete. Un accesso segreto per controllare tutte le attività e le comunicazioni. Perché poi hai abbandonato Ade? Non certo per un atto di coscienza. A dire il vero, ero preoccupato dopo aver visto l'eclissi risvegliare un robot antico con la mia tecnologia. Ho dubitato delle intenzioni di Ade. Un po' tardi. Infatti, avevo esaurito la mia utilità. Quando ho completato la rete dei focus, Ade mi ha convocato per la mia ricompensa. Subito dopo, l'ho sentito dare l'ordine di uccidermi. Sono un fuggitivo da allora. E io quando sono arrivata? E il nostro percorso insieme? Quando hai incontrato Olin. Minaccia di sistema rilevata. Ha attirato la mia attenzione. L'ordine di uccidere una ragazza selvaggia Nora. Perché Ade voleva questo? Ma poi ho visto che questa Nora indossava un focus. E che somigliava molto a una grande scienziata del mondo antico. Alice è stato veloce. Pensavo fossi morta. Ma poi ho rilevato il tuo focus nella montagna dei Nora. Più ti osservavo, più mi convincevo della tua straordinaria natura e della tua utilità. Grazie a te avrei finalmente scoperto i segreti della Terra. Ho deciso che avrei fatto qualsiasi cosa perché tu ci riuscissi. Il resto, come si diceva una volta, è storia. Le cose che hai fatto per ottenere la conoscenza, Silence, sono da incoscienti. Aloy, non volevo sollecitare il tuo giudizio. Da non crederci. Io ho fatto il possibile. D'ora in poi è tutto nelle tue mani. Prendi la mia lancia. Attaccale l'override principale e potrai usarla per iniettarlo. Quindi dovrò soltanto avvicinarmi alla testa di Ade e piantargliela dentro? Esatto. Ho nessun problema. Silence! Dove andrai? Altrove. E ovunque. C'è ancora molto da scoprire prima che il mondo finisca. E tutto questo? Lo lascio a te naturalmente. Come si è dimostrato. E' sempre stato tuo. Io ero solo di passaggio. Salute, Aloy. Sono noto come Maradlonesto. Prego, seguimi. Servi per un'importante consultazione. Che cosa intendi? Dov'è Erend? E' dentro, con il Re Sole. Dove andremo noi senza indugiare? Meno male. Ho qualcosa di urgente da riferire al Re. Avrai la tua occasione. Seguimi, prego. Aloy Deinora. Colei che vede l'invisibile. Benvenuta. Mi hai reso un servizio lodevole. Erend, dille cosa sai. Ho controllato la tomba di Ersa. Avevi ragione, Aloy. Il corpo non ha la cicatrice sotto il ginocchio destro. L'ho fatta io, Ersa. Da bambini con una spada giocattolo. Se il corpo non è di Ersa, dobbiamo supporre che sia ancora viva. E non intendo abbandonarla. Sappiamo solo che è stata rapita. Non da chi. A questo penso io. Ersa ha un nemico fra gli Oseram. Un condottiero di nome Derval. Impossibile. Tutti i clan della conquista gli danno la caccia fin dalla liberazione. Dovrebbe essere morto a quest'ora. Nessun altro Oseram ha un motivo e l'ingenuità di attirare Ersa in trappola. Sono sicuro che lo troverete nascosto vicino al confine. Ho già inviato un agente a indagare. È in attesa di nostri ordini al mercato di Rupestria. Inviando truppe al confine, provocherei gli Oseram. Ma potrei mandare le avanguardie. E magari una Nora eccezionalmente capace. Erend Marad, devo parlare da solo con lei. Detesto approfittarne dopo quello che hai fatto. Ma questa faccenda è molto importante per me. Sembra che tu tenga molto a Ersa. Senza le sue avanguardie Oseram non sarei mai riuscito a liberare Meridiana e porre fine al brutale regno di mio padre. Da allora non è stato semplice mantenere la pace fra le tribù. Ma Ersa sa come far ragionare la sua gente. Per questo mi serve di nuovo al mio fianco. E subito. Chi è Derval di preciso? Per capire Derval, devi prima capire mio padre. Si credeva davvero un dio del sole. La sua mente era... deviata. Credeva che i sacrifici di sangue risolvessero... beh, tutto. Per questo ha assalito le altre tribù. Specialmente gli Oseram. Ma Derval ha risposto. Ha creato armi potenti e... guidato la sua gente. Mio padre ha ricambiato con... la più spietata crudeltà. Ha catturato sua moglie... e sua figlia. Le ha sacrificate nel cerchio del sole. Allora, perché Derval ha pianificato tutto questo per rapire Ersa? Si sentiva tradito. Lei combatté al suo fianco finché... non capì che voleva razziare Meridiana e uccidere la sua gente. Poi venne da me. Insieme lo fermammo... e liberammo la città da mio padre. Da allora Derval pensa solo a vendicarsi contro... gli Oseram che combatterono con noi. Ha così tanti nemici potenti. che credevo fosse spacciato. Mi sbagliavano. Gli assassini... dei Nora. Ho scoperto che sono una fazione dei Karja delle Ombre, chiamata Eklissi. Stanno riesumando armi antiche. Macchine che corrompono e controllano altre macchine. Vogliono usarle per colpire Meridiana. Ho visto la loro base, a ovest di qui, nelle montagne. Quando attaccheranno, arriveranno da quella direzione. Ma il punto è... che non vogliono realmente la città. è difficile da spiegare. Ma il vero bersaglio... è la Guglia. Se la conquistassero, risveglierebbero altre macchine antiche dalla Terra. Più di quante possiamo fermarne. Quello che dici conferma i rapporti di Marad. Una cellula dei Karja delle Ombre. Macchine corrotte a piede libero. Quando attaccheranno, lo sai? Non ne sono sicura. Ordinerò il rafforzamento delle fortificazioni a ovest della città. Quanto alla Guglia, cercherò di difenderla. Ma non a discapito di Meridiana. Ma da un momento all'altro, succederà. Cercheremo di essere pronti. Ma nel frattempo, Ersa resta la mia priorità. Ti prego. Devo trovarla. Vorrei chiederti qualcosa sul dominio e sulla sua politica. Con piacere. Ti definiscono un dio del sole che ha ucciso suo padre per unire le tribù in armonia. Quanto c'è di vero? Dicono che puoi vedere l'invisibile, colpire una freccia a 50 passi e domare le macchine a prima vista. Quanto di questo è vero? Abbastanza, direi. Beh, mi piacerebbe unire le tribù in armonia. Ma hai visto di quanti sudditi devo occuparmi prima? Forse più avanti. Però che palazzo il tuo. Da qui le persone in fondo alla messa sono minuscole. Non ti piace? Beh, ti confesso una cosa. Neanche a me. Ma serve pazienza. Non basta un'alba a cambiare le cose. Ma possono cambiare se la gente vive nei palazzi? Forse. Prima o poi. La gente come te mi aiuta a sperarlo. La tua politica sembra essere davvero complicata. Gli Ozeram sono amici, ma anche nemici. Non avrei mai liberato Meridiana senza l'aiuto di Ersa e delle sue lame fiere Ozeram. Molti di loro vivono qui. Ma gli aldermanni dei clan Ozeram della conquista sono invidiosi del suo successo. E così molti nobili Karja. E' una situazione instabile. specialmente dopo che mio padre ha tormentato gli Ozeram per anni. Ersa mantiene la pace. Promettendo un futuro di benefici reciproci. Ma alcuni, come Derval, non demordono mai. Cosa puoi dirmi dei Karja delle Ombre? Cosa hanno a che fare con Ersa? Sono tutto ciò che resta del regime di mio padre, che resiste nella fortezza di tramonto a Ovest. Come a lui, a loro importa solo il dominio. E cercano di attingere al potere del sole, versando sangue in suo nome. Ersa mi ha aiutato a sottrargli la città, rendendoli capri espiatori. Derval lo sapeva, ovviamente. E così ha agito. Devo andare ora. Lo so. Beh, dicono che non sia da re e supplicare. Ma ti prego, trova Ersa per me. Chi lo dice? Marad, per esempio. Non esitare a parlare con lui o Erend, se hai altre domande. Dov'è l'uomo di Marad? Ne ha avuto di tempo per indagare. Dobbiamo cercarlo. Direi. Deve essere l'uomo di Marad. Quelli di Derval l'avranno beccato. Forse perché ha scoperto qualcosa. Guarda. Sembra che abbia disegnato una mappa col sole. Vero. Quel tipo di mappe che sai che è meglio seguire. Quella sarà Rupestria. Ha segnato un punto a nord. Forse Derval si trova lì. I miei uomini aspettano fuori dalla città. Li raduno e ci vediamo lì. Macchine. Sembra siano state incatenate. Derval è un fabbro. Probabilmente le usa per gli esperimenti. O per sfruttarne dei pezzi. Potrei usarle per creare confusione. Vado per prima. Aspettate l'inizio dello scontro. Va bene. Ti copriamo le spalle. Derval dice che mancerai fuori. No! Derval dice che mancerai fuori. Probabilmente usano questi per ripararsi dall'orribile fragore. Ersa! Aaron. Derval voleva distruggermi. Povero illuso. Avrei dovuto essere con te. Perché non mi hai cercato? So di essere un inutile ubriacone, ma... No, idiota. Ho ricevuto un messaggio da Debba. Voleva parlarmi. Non ti ho cercato perché... Sapevo che ero una trappola. Non volevo esporti. Non sapevo fosse ben architettata. Pensavo di eliminarlo. Ora ascolta. Derval ha in mente qualcosa di grosso a Meridiana. Dice che costringerà Avada a guardare il fumo coprire il loro prezioso sole. Il re ha bisogno di te. Ora basta giocare. Dovrai crescere e in fretta. Lo farò. Promesso. Ti conviene con me, fratellino. Ersa! No, no. Ti prego. Non ti deluderò. Promesso. Eren. Mi dispiace. Dobbiamo trovare Derval. Ma Meridiana è troppo grande. Io... guarderò fra le sue cose. Ci aiuteranno a trovarlo. Credo di aver trovato qualcosa di utile. Ora torniamo al palazzo. Vai. Non ci metterò molto. Ma ho bisogno di restare con mia sorella. Felice di vederti. Non ci sono parole per Ersa. Sapere che è viva e poi perdere la speranza è crudele. Ersa non vorrebbe troppi discorsi. Vorrebbe che trovassimo Derval. Ha detto che parlava di fumo che ricopre il sole. Diggi che cosa hai scoperto. Una lettera. Parla di un carico di vampa spedito a un deposito qui. Solo che non era indirizzata a Derval. Ma un certo... Elund il forgiatore. Questo nome vi dice niente? Mi suona familiare. Sì, è un signorotto. Gli Oseram hanno comprato diversi edifici in tutta la città compreso uno ha quel nome. Fammi pensare. È al confine della messa vicino al Tempio. Era un negozio. Ora potrebbe servire da deposito. Se Derval ha usato quel nome per comprarlo potrebbe essere perfino lì. Radunerò i miei uomini. Ci vediamo là. Eren, aspetta. Ricorda che nessuno odia Derval più della tua tribù. Gli altri clan pagherebbero pur di averlo. Prenderlo vivo. Per usarlo come merce di scambio non puoi dire sul serio. La nostra sicurezza dipende dal mantenere la pace. Se si presenta l'occasione prendetelo vivo. Consideralo un ordine. A lui. Un momento. Grazie. Quando abbiamo parlato Erend ha sorvolato sui dettagli della morte di Ersa. Comprensibile, certo. Ma ora che sono solo con la mia immaginazione penso sempre a quei dettagli. Tu eri lì. Ha sofferto. Non è lei quella che soffre adesso. Sei tu. È morta prima che poteste dirvi addio. È così ovvio. Hai ragione. Rimugino sul mio dolore non sul suo. E c'è solo una cosa che può aiutarmi. Trova Derval e portalo al mio cospetto. risponderà dei suoi crimini. Ok. Ma sventata questa minaccia meridiana ce n'è un'altra in agguato. Dobbiamo parlare dell'eclissi. Lo faremo. Promesso. Il posto è questo. Sei a casa, Derval? C'è una sorpresa per te. aiutami a spingerlo fuori. Ok. Forza brutta, nessun problema. A che serve? A salvare la città, spero. Ma quando la vampa cadrà, scappa, perché innescherà la trappola sulla bomba al piano di sotto. Da. Sopravvivremo? Probabilmente no. Ora spingi. Oh, sì. Era l'unica occasione di Derval e Meridiana è ancora in piedi. Non è finita. Derval voleva che Avad guardasse. Impossibile. Dovrebbe entrare nel palazzo ed è ben difeso. Torniamo indietro, per sicurezza. Io guardo in giro. Forse gli uomini di Derval hanno lasciato qualcosa. Ok. Tranquilla. Se provo a entrare a palazzo, è finito. Derval. Derval. Guardati, Avad. L'erede di un re pazzo che si dimena. Mi hai privato del diritto di uccidere tuo padre. Quindi dovrò accontentarmi di te. Mi divertirò a vedere i carci bruciare. Soprattutto perché tu assisterai insieme a me. Dì addio alla tua Meridiana, Avad. Respira il vetore e soffoca nelle generi. Qualcosa non va. Io non ho sentito niente. C'è del fumo che sale dal margine della messa. No! Dovrebbe essere un inferno e non il fumo di un carbonaio. Cos'è stato? Tu devi essere la Nora che ha attaccato la mia base. Hai disattivato la tua bomba. Sei stata tu. Bomba o meno. Imbratterò quel trono con il sangue. Prima il tuo. Poi quello di Avad. Non è ancora finita, Nora. come ogni inventore oseram che si rispetti. Io ho sempre un terzo piano. anche se vorrei che Ersa fosse qui per ucciderti. non mi spiacerà farlo io. Va avanti. Non ho paura. Ma visto che si tratta di te, Erend, fallerai! io so qual è la tua paura. Tornare a prima fonte in catene. Ogni clan della conquista ti vorrebbe molto. E sa come farlo in modo doloroso. Farebbero a gara per il privilegio. è proprio da te lasciare che gli altri uccidano al tuo posto. Silenzio. Sei nelle mani del re Sue adesso. Aloe. Stavo giusto pensando a Ersa. lei avrebbe ucciso Derval. Lo so. Ecco perché era andata a incontrarlo per eliminarlo. Ma mi ha anche detto di crescere. Lo ammetto un po' mi ha fatto male. Ma ne farò tesoro. E suppongo che crescere significhi fare ciò che devi e non quello che vorresti. no? A me lo chiedi. Sono certa che hai più anni di me. Già ma non mi comporto da tale vero? Con Derval l'hai fatto. Non darmi troppo credito. Se ci penso aspetto ancora l'occasione per rompergli il collo. Sì ma non lo farai perché sei un bravo capitano. Ora basta. Mi farei piangere. Quindi dopo tutto questo che ne sarà di Erend l'avanguardia? Tornerò per un po' alla conquista. mi metterò in contatto con il mio clan e daremo sepoltura a Ersa come vorrebbe lei. E intendo meno chiacchiere e più birra. Che cosa pensi che faranno gli Ozeran a Derval? Per iniziare ne discuteranno per molto tempo ma qualsiasi cosa decidano non sarà rapida. Me ne farò una ragione. In effetti potrei passare dalla sua cella sotto al cerchio e ricordargli cosa lo aspetta. Beh. Lo so ora devi andare. Assassini da scovare macchine da domare tutto prima di colazione. Sai una cosa? Quando ti ho visto pensavo fosse un bel colpo parlare con una bella ragazza nascosta in mezzo al nulla. Ma ora capisco che sono stato fortunato ad avere un minuto del tuo tempo. Cerca di non dimenticarmi quando sarai là fuori a cambiare il mondo. Odio dovertelo dire dopo tutto quello che hai passato ma presto ci sarà un'altra battaglia e ho bisogno di te. Elis e i suoi fanatici marceranno su Meridiana. Non c'è riposo per gli esausti, eh? Non preoccuparti. Sarò con te. A loi dirti che hai tutta la mia gratitudine non è sufficiente. Mi hai salvato la vita e hai salvato Meridiana e verrà fatta giustizia per l'omicidio di Ersa. La piangeremo sapendo la verità senza dolorose incertezze. È dura pensare a dove saremmo senza di te. Avad fermati. Dobbiamo parlare di una cosa urgente. Lo so ma ti prego devi ascoltarmi. Voglio che resti a Meridiana. Come? Perché? Beh tanto per cominciare hai evitato che la città finisse in fiamme e sei forte astuta e capace. Mi farebbe comodo una come te al mio fianco. Grazie per l'offerta ma credo che né tu né io siamo pronti per questo. Almeno non ancora. Ho ancora parecchia strada da fare per trovare quello che cerco e mi porterà molto lontano da Meridiana. Ma ma certo non volevo insinuare nulla. Sei indipendente come lo era Ersa ma avevi qualcosa di urgente da dirmi? Alice si prepara ad attaccare Meridiana da un momento all'altro. Per il sole. un attimo ma Rad deve sentire. A loi il re sole riferisce che porti notizie funeste. Ti prego dici quello che sai. L'eclissi lancerà presto un attacco da ovest. Ha con sé un esercito di macchine da guerra e non è finita qui. Hanno con loro una specie di mente dio demone macchina chiamalo come vuoi. Si chiama Ade e non ha interesse per Meridiana. È la guglia che vuole e se la prendesse invierebbe un segnale risvegliando altre macchine antiche. Allora non avremmo più scampo. Saremmo perduti e noi dobbiamo impedirlo. Sto cercando di capire ma la mia responsabilità resta Meridiana. L'obiettivo non è Meridiana Avad devi difendere la guglia. Suggererei l'avanguardia maestà. Sì inviamoli alla guglia. Erend conosce Aloy non farà obiezioni. E ordinerò alle guardie di rafforzare il crinale a ovest. Là potranno proteggere Meridiana e l'Alpore dove c'è la guglia. Aloy permettimi di scusarmi per il mio atteggiamento. dopo quello che è successo con Ersa io ero confuso. Se dobbiamo combattere insieme in bilico fra vita e morte preferisco farlo con il tuo perdono. Allora ce l'hai sempre che tu non mi confonda di nuovo con lei. Anche un re può imparare la lezione. Bene allora sono lieto di aver risolto. Beh ci vorrà tempo per organizzare le difese. Ti prego dimmi cosa sai dei nostri nemici tutto quanto. Non sono in grado di dirti tutto ma ti dirò quello che posso. Ah Aloy stiamo organizzando la difesa del crinale della guglia abbiamo allertato ogni angolo del dominio i nostri alleati ci aiuteranno chi è venuto per Meridiana e chi per i frammenti ma molti sono venuti per te per me non essere modesta il crinale sarà la prima linea sono lì le guardie della città sì insieme ad alcuni degli irregolari di cui ti ho parlato prima i cannoni oseram che hanno distrutto le mura di Meridiana nella liberazione ora ci difenderanno se vuoi esamina le difese e la guglia eren dell'avanguardia sono là certo a prendersi a panciate con la corazza o a intonare le grida di battaglia immagino anche numerosi in ora hanno raggiunto la guglia ma hanno rifiutato l'offerta di un'udienza reale potresti fargli cambiare idea lo farò immagino che possiamo solo aspettare l'attacco esatto non è lo scenario che preferisco ma i nostri osservatori ad avvento della sera non rilevano movimenti da ovest quindi se c'è qualcosa di cui devi occuparti altrove approfittane ora altrimenti ho messo a tua disposizione l'appartamento di Olin Delverson puoi dormire lì se ci riesci come facevi a dormire Elisabeth con il peso di una responsabilità come la tua e invece tu Rost dopo che hai perso la tua famiglia Silence per caso ci sei? forse non dovrei chiedere consiglio ai fantasmi signora ci sono segnali da ovest il re sole Avad vi attende al tempio del sole di un po' È un falò, per caso. E forse stanno radunando le forze per l'assedio alla città. Non è legno che brucia. E allora cos'è? La fine. O il suo inizio, almeno. Gli sterminatori di cui parlavo... Alle armi! Alle armi! Subito! Per il sole, fate come dice! In posizione! Preparatevi, pronti all'attacco! I cannoni li fermeranno. Stiamo per scoprirlo. Alice! No! Raduna le avanguardie e chiama i rinforzi! A lui, no! Quei cannoni ci servono! Ma lui ti farà a pezzi! No, stavolta! È scelto. Questo non l'ha previsto. Scelto. Hade ti ha scelto soltanto perché sei un folle. Un carnefice sadico troppo stupido per capire di essere stato usato. La tua vita è stata un fallimento. E presto, nessuno si ricorderà più di te. Adesso voltati verso il sole e pezzaci bene! All'impelle! La tua vita è stata un'esplня. All'impelle! All'impelle! Attenti! Attenti! Stop! Aloy! 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 Zeb... Per la madre, sei viva. Credevo fossi morta. Gli altri sono... No, no. Sono feriti, ma per fortuna sono vivi. Le macchine ci hanno travolto, poi hanno proseguito. Hanno marciato sulla guglia, trascinando quella cosa con loro. Prenditi cura degli altri, Zeb. Io... devo andare. È iniziata. Adè sta trasmettendo. Ero... A l'euro... Arrò... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'arrivo dell'entità è stato anticipato. L'entità non interromperà la trasmissione. Al contrario, i calcoli sono precisi. La presenza dell'entità era prevista. L'entità non interromperà la trasmissione. Override principale armato. Per attivare, pronunciare nome e grado. Elisabeth Sobeck. Alpha Prime. Override principale attivato. Elimino il protocollo d'estinzione. L'entità non interromperà la trasmissione. L'entità non interromperà la trasmissione. L'entità non interromperà la trasmissione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non lo so. Ricordo di aver urlato che non mi importava. Allora mia madre mi prese la faccia fra le mani e parlò. Domanda. Che cosa ti disse? Che doveva importarmi. Disse... Elisabeth. Essere intelligenti non significa nulla se non rendi il mondo migliore. Devi usare la testa per valere qualcosa. E servire la vita, non la morte. Racconti sempre storie di tua madre, ma tu non hai figli. Non ne ho avuto il tempo. Forse è stato meglio così. Se avessi avuto un figlio, Elisabeth, come avresti voluto che fosse? Immagino che avrei voluto che lei fosse curiosa. E ostinata, inarrestabile anche. Ma con abbastanza compassione da guarire il mondo. Solo un po'. Comunque, per oggi è tutto, Gaia. È ora di dormire. Ti auguro sogni d'oro, Elisabeth. Grazie. A domani. Ciao, mio vecchio amico. Ti ricordi di me. Abbiamo ancora molte cose di cui parlare. Molte cose da scoprire. I tuoi padroni, per esempio. Quelli che hanno inviato il segnale per risvegliarti. La conoscenza ha i suoi vantaggi, non credi? Bene. Iniziamo.